Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Belen Rodriguez, showgirl argentina, ha finalmente completato i lavori nella sua nuova casa a Milano, vicino al quartiere City Life. Dopo mesi di attesa ha deciso di mostrare alcuni dettagli dell'abitazione sui social. Il salone è dominato da un divano extra-large marrone, pavimenti in parquet chiaro e un tavolino di design. L'arredamento è minimalista e curato nei dettagli, con colori neutri e luci soffuse. Non manca un tocco di nero, che incupisce l'ambiente. Dopo aver vissuto con Stefano De Martino, Belen si trasferisce finalmente nella nuova dimora, mostrando alcune stanze sui social. Il salone neutro, con divano, tavolino e lampada a pavimento, lascia intravedere uno stile elegante ma cupo, con infissi, luci e rubinetteria neri. Il trasloco è appena iniziato, con valigie sparse e ancora qualche dettaglio da sistemare. Stefano De Martino, padre del figlio di Belen, Santiago, ha aiutato la showgirl con il trasloco, dimostrando un ritorno di serenità tra i due per il bene del bambino. Anche la madre di Belen, Veronica Cozzani, ha partecipato all'evento. La nuova casa di Belen è un lusso esibito con cautela, con dettagli curati e uno stile minimalista. La showgirl sembra pronta per iniziare una nuova vita nella sua nuova dimora, lasciandosi alle spalle il passato e guardando al futuro.